Un grande economista è il Mr. Alan Friedman in Fiera a Roma, Big Blue, per TM News e Expo TV Fiera di Roma. Mr. Friedman, Roma vuole essere giustamente al centro del Mediterraneo, Big Blue parla del mare, il mare Mediterraneo bagna tantissime coste che in questo momento sono molto infiammate. Che impatto può avere questo nell'economia nel prossimo futuro? Ci sono due ordini di considerazione qui, uno è la situazione nel Mediterraneo e nel mondo arabo, nel mondo musulmano dove stiamo vedendo ovviamente la centralità del mare non solo in termini di cultura, ambiente, storia e economia ma anche purtroppo nei risultati, le conseguenze delle rivoluzioni in atto per la democrazia nel nord Africa e altrove lungo le sponde del Mediterraneo. Per quanto riguarda Big Blue, per quanto riguarda la Fiera, per quanto riguarda il mare a Roma direi che è da un lato dovoroso che la Fiera di Roma si occupi di questo, essendo proprio il capoluogo del paese più importante del mare Mediterraneo e quindi è giusto che Roma sia al centro di questo. Vorrei complimentarmi con gli organizzatori della Fiera perché evidentemente avete preso molto sul serio tutti gli aspetti, sia consumer, retail, di piccole barche e spettatori, sia delle istituzioni che hanno avuto dei vivaci dibattiti e incontri che fanno bene perché questo, la Fiera di Roma, è il luogo naturale per mettere insieme la massa critica necessaria per affrontare le questioni del mare. Quindi complimenti a tutti voi.